Siamo qui a Scafa con Trada De Contra insieme con Giordano Di Fiore che ci parla di una tematica molto calda perché qui a Scafa manca l'acqua e sono davvero in difficoltà da tempo sia gli agricoltori che gli allevatori. Come si risolve questa problematica? Noi abbiamo questo problema da anni. Come vedete la vasca dovrebbe essere già piena e dare acqua a tutta la vallata. Purtroppo ad oggi a quasi due mesi dalla riapertura non c'è l'acqua. Abbiamo scritto attraverso il legale un centinaio di famiglie più allevatori e agricoltori come è stato ben detto. Ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta né dal comune e soprattutto dal commissario Paolo Costanzi il quale ci aveva garantito quantomeno fare una manutenzione programmata. Questo non è avvenuto. Le bollette sono arrivate. Noi abbiamo necessità di un incontro con l'assessore assente al sessore regionale. Io chiedo un intervento del presidente Marsiglio affinché quest'area e questi allevatori in questo momento di pandemia abbiano delle risposte. Anche la manutenzione purtroppo in questo momento latita. Purtroppo hanno cambiato il commissario ma la sostanza è la stessa. Anzi è peggiorata. L'anno scorso basta pensare dopo un incontro abbiamo avuto garanzie sulla manutenzione. Ad agosto hanno tolto l'acqua mentre il servizio stagionale finiva a ottobre. Ci siamo quasi. L'estate è prossima. Questa è una priorità da affrontare e risolvere al più presto. Non solo questo. Noi abbiamo avuto le alluvioni negli ultimi anni che hanno portato via anche le bolle di acqua che portavano e davano garanzie alla captazione dell'acqua. Chiedo altresì di bloccare questi pagamenti o di ridurre come abbiamo chiesto con l'avvocato almeno del 60% perché non possiamo essere come si dice in Abruzzo cornuti e mazziati.